Pierangelo Madarese, è presente in quest'opera a murimento, che significato ha? Ce la vuoi spiegare in poche battute? Guarda, il significato lo devono dare il pubblico che guarda, io non do nessun significato. Com'è nata quest'opera? È nata così spontaneamente, bianco nero e nero bianco. Quest'albero? Che sono i colori basi della vita, la luce e la nozze. I colori non esistono per te? Sì, esistono, ma in questi ultimi tempi sto facendo esclusivamente bianco nero. La sintesi è una sintesi dell'esistenza. Quest'albero? Quest'albero è significativo, è un paesaggio della vita. Cos'è? Una quirce di sughero piegata? Piegata dal vento, chiaramente dagli elementi naturali, quindi è un albero che ha vissuto.